amici buon pomeriggio a tutti e niente siamo in fase di preparazione di sbucciamento delle patate chiaramente per fare due belle frittate frittate di patate per stasera frittata di patate si sbucciano le patate bello passate a bucciamici cercendo un po' chi si mangia chi si mangia così belli così buoni stasera cucino Susanna ora anzi cucino ora così si riposano per stasera e già stasera abbiamo pronto perché chiaramente dopo devo andare nel tendista e stasera allora non si può cucinare si fa tanti c'è una volta che li faccio ora già ce l'abbiamo pronte le frittate quando vinci stasera possiamo cenare scelto